Siamo qui oggi, finalmente, perché le famiglie Leshnayan che vengono da tutta Italia hanno la gioia di poter provare ad avere una presa in carico più globale per questa rarissima malattia di cui troviamo sul territorio italiano poche competenze sparse e abbiamo la difficoltà di fare percorsi terapeutici, assistenziali e di ricerca. Quindi noi siamo molto grati al Gaslini che ci dà questa opportunità di fare questa prima giornata della Leshnayan e sono qua dieci famiglie che vengono da tutte le parti d'Italia e la maggioranza dei bambini italiani è presente qui oggi e quindi è per noi una grande gioia e una grande speranza.